Si è compiuto il percorso di questo provvedimento che abbiamo pensato in primavera e che voleva essere un aiuto alle imprese, alle imprese del territorio a ripensarsi, a investire nella comunicazione e anche nel sapere raccontare meglio i propri progetti e poterlo fare facendo lavorare altre imprese del territorio. Quindi questi 110.000 euro che provengono dai finanziamenti europei siamo riusciti a metterli a disposizione completamente delle imprese che hanno presentato dei progetti e quindi dai 5.000 euro per ogni singolo progetto che sono stati approvati per un totale di 22 iniziative e questi stessi porteranno beneficio alle imprese che hanno individuato il modo migliore per raccontare la propria attività ma anche per le imprese sempre nella città di Pesaro che hanno potuto partecipare come fornitori. Si è compilato prima un albo fornitori poi un albo di progetti, ora completata la validazione abbiamo 22 piccoli progetti che però rimettono in moto risorse economiche, lavoro e quindi anche possibilità di ripensarsi in particolar modo in questo momento dove l'emergenza del Covid, molta attività spostata nel digitale e in generale anche una necessità che c'era comunque di migliorare la propria veste comunicativa potrà aiutare tante imprese e anche piccole che magari da sole non avrebbero deciso di fare questo passo. Questi voucher da 5.000 euro sono una bellissima risposta verso le aziende, le aziende che hanno sofferto e anche una risposta diciamo all'opposizione che magari ha criticato nei giorni scorsi anche in Consiglio Comunale la redistribuzione degli altri bonus, quelli relativi a bambini, spesa e aziende colpite e invece sono proprio alcune delle aziende colpite che beneficeranno di questi voucher. Sì esatto perché questa opportunità in più, perché oltre ai 100.000 euro che diamo tramite il bonus da ieri possono fare le domande le imprese, oggi è uscita la graduatoria di altri 110.000 euro da poter usufruire quelle imprese che hanno partecipato al bando che abbiamo lanciato quest'estate quindi siamo contenti e soddisfatti. Visto che viene citata l'opposizione mi sento di dire che non è assolutamente il momento di soffiare sul fuoco. Dobbiamo essere uniti e pensare che le difficoltà le conosciamo siamo tutti, siamo consapevoli, però siamo tutti pronti e lo vedete anche in queste azioni concrete che stiamo facendo perché capiamo le difficoltà che stanno attraversando i cittadini e le imprese del nostro territorio. E proprio i pubblici esercizi, alcuni dei più penalizzati, alcuni tra quelli che stanno scendendo in piazza sono appunto fra le tipologie che beneficeranno di questo voucher? Sì esatto, questo voucher questa mattina ho visto nella Determina dalla graduatoria sono molto soddisfatta perché si vede che hanno vinto questi 5.000 euro di voucher sono attività che riguardano bar, ristorazione, artigianato, cioè quelle attività che sappiamo ad oggi sono in difficoltà per le restrizioni del DPCM.